Il metaverso offre diverse opportunità, tra cui 1. Intrattenimento Il metaverso può essere utilizzato per creare esperienze di gioco immersivo e di realtà virtuale che consentono agli utenti di interagire in modo più coinvolgente con i contenuti 2. Comunicazione Il metaverso consente agli utenti di comunicare e interagire in modo più naturale in ambienti virtuali, creando nuove opportunità per la comunicazione sociale e lavorativa 3. Formazione Il metaverso può essere utilizzato per creare ambienti di formazione immersivi che consentono agli studenti di imparare in modo più efficace 4. Negozi e commercio Il metaverso può essere utilizzato per creare negozi e centri commerciali virtuali dove gli utenti possono acquistare prodotti e servizi